Nessuno stupore e dunque nessun dolore, lo sapevano tutti, per primi i protagonisti di questa vicenda quasi teatrale che la serenitana ha messo in piedi reggendola con qualche momento di difficoltà per la verità per ben sei mesi. Da giugno scorso infatti Davide Nicola era come un equilibrista sospeso sul filo, un passo falso e sarebbe precipitato. La sconfitta di Bergamo è stata solo l'ultimo passo, quello fatale, l'inciampo clamoroso, fragoroso, di grande impatto scenico, tutto ciò di cui da tempo la proprietà era in cerca per poter giustificare un provvedimento che sarebbe stato legittimo anche mesi fa se questo era appunto l'orientamento. Perché chi paga, chi tira fuori i quattrini, insomma il presidente, è legittimato a prendere qualunque decisione purché nel bene della squadra e del club. Se la fiducia in Davide Nicola era venuta meno, allora era giusto porre fini a tempo debito al rapporto, forse già l'indomani del burrascoso divorzio da Walter Sabatini. È bastata una notte per esonerare il DS del 7% e della salvezza miracolosa, si sono attese 18 giornate di campionato per esonerare un allenatore che era finito in un tunnel, logorato dai continui screzi con il DS De Santis e non più in grado di fare presa sul gruppo da cui ieri è stato palesemente scaricato, tradito anche. Il calcio è luogo senza sentimenti, i calciatori poche volte si distinguono per nobiltà d'animo e quello che è successo nelle ultime partite, in particolare ieri a Bergamo, ha certificato che come sempre sono loro a decidere i destini di un allenatore. Basta rivedere i gol subiti, specie quelli del primo tempo, per capire come ormai tra la squadra e Nicola ci fosse un totale cortocircuito. Le colpe, paradossalmente in primis, ricadono su Danilo Ierevolino che ha profuso sforzi dal punto di vista economico ma ha anche commesso l'errore di sbilanciarsi troppo con parole e proclami. Insomma, si è sbilanciato lui, si è sbilanciato molto Nicola con atteggiamenti tattici scriteriati, con interpretazioni delle partite completamente staccate dalla realtà e soprattutto senza avere gli interpreti adatti. Ierevolino è il capo famiglia e deve assumersi le sue responsabilità. Nicola è stato esonerato ma non tutte le colpe sono da imputarsi a lui. In queste ore colpisce il silenzio di Morgan De Santis che a Reggio Emilia lo scorso ottobre sentenzio in diretta l'esonero del tecnico, poi rientrato per intervento e meditazione delle tante anime di una società che manca ancora di esperienza. Dopo la disfatta di Monza, l'ennesima pezza a colori con tanto di comunicato. Si è perso solo tempo perché Nicola era stato sfiduciato dal DS e dalla proprietà e non era più il leader del suo stesso gruppo. Lo si è capito anche alla ripresa del campionato e del resto anche tempi biblici per ingaggiare un esterno. A proposito, non sono passate inosservate le prestazioni di Ruggeri e il bel gol di Zortea richiesto a gran voce da Nicola a dicembre e quegli altri puntelli che avrebbero dovuto irrobustire una squadra che presenta troppi giovani senza personalità. In questo ci sono precise responsabilità di chi ha gestito il mercato, che ha puntato alla patrimonizzazione ma che forse ha perso di vista le esigenze dell'immediato. In campo vanno gli uomini, non i valori teorici di mercato. Bisogna saper scegliere gli uomini, saperci parlare quando serve, saper capire come farli amalgamare tra loro. E quando serve bisogna metterli dinanzi alle loro responsabilità, come hanno fatto con grande efficacia i tifosi, con lo striscione esposto al Meri Rosi. Vergognatevi tutti. Sì, bisogna saper provare vergogna per l'umiliazione inflitta alla maglia, al nome della società, ai tifosi e dalla città. Bisogna scusarsi e cambiare registro da subito. Nicola resterà l'uomo della salvezza ed ora sempre un posto speciale nel cuore di tutti. Il calcio però è un eterno presente. Dalla fine c'è sempre un conto da pagare. Forse Nicola non dovrebbe pagarlo da solo, anche sulla scorta di cui moriremo insieme dell'estate scorsa. Gli Elvrino ora deve fare il presidente e deve essere ancora più tifoso dei tifosi. Subito scelte drastiche, energiche e subito rinforzi di spessore perché sabato bisogna non solo onorare il derby ma essere anche nelle condizioni di non partire battuti. I prezzi alti sono una mortificazione per i tifosi salerintani, almeno non ce ne siano altre anche sul lato sportivo. È una questione d'amore e d'onore, di rispetto in fin dei conti. Salerno sarà sempre grato a chi l'ha salvata, ma ora servono fatti concreti dopo le tante parole di questi mesi. Sì, nel calcio purtroppo capita, ecco perché ora bisogna aprire il cuore anche il portafogli, proprio come fanno e faranno i tifosi che acquisteranno gli esosi tagliani per la gara di sabato pomeriggio. Dentro per Duvanna, attaccato da Radovanovic, palla di ritorno, Zortea, prova a girarsi il destro! Per il gol dell'8 a 2. Finisce così l'Atalanta dopo...